Voi avete quella personalizzata? Io no, come faccio? E' per partire bellezza? Io ho quella alienizzata Perché non è una persona Piscadelic Piscadelic di mamma di Turi E' una grandissima Puc Pucca il caos Ma con noi sta guardando Va bene, va bene, suona il clacson No, si doveva saltare veramente Ci sono rimasti fattute Non ci voglio tre Ma io ho saltato, ma mi è andato lo stesso addosso Vedi quando una la mamma è foccola Guarda La tv si spegne 60 secondi, fatalità Testa, poverino No, poverino Poverino, asploso Hai visto? Ma io sto andando avanti Non è colpa mia, non essere colpa mia No, sono asploso io, proprio Non c'è un buco Non c'è un buco Ah, è perché Non cagano, va Non credo che sia un esperto Vabbè, va Non si capisce un cazzo Dei brutti tu Non si capisce un cazzo Si può capire una pagina Ma è proprio a tutte quelle che fanno ridere Ma non fanno ridere E nel stesso contemporaneo non fanno ridere Contemporaneamente Vorrei farmi due ragazzi Contemporaneamente Meridio non iscarmoo La mamma nu da rituriballa Ahia Eh Tua madre di Dio Black Tiger è sempre davanti Porca puttana Non lo sopporto più Ahia, questa è molto È una tiger Ricordiamo che sto registrando Quindi tutto andrà online Vabbè Dai, il seccio primo Eh, va Che riguarda Scrive Si scaricate Cioè, sì Si sparata Non ci credo Non ci credo Non ci credo Dov'è, dov'è Ti sentiamo Dai, stai capisco Il punto Vabbè Sono adesso Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo no, 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 no. Blacktire è solo sussidato. Ehi, attacchiettino. Aspetta, 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 non me ne frega, non me ne è merito cazzo. Mamma mia, problemi. E non ha mai fatto. Dario, oddio. Ixtxt, uno di tre. Eccolo. Ixtxt, uno di tre. Se, vada così. Tu, ricostai, uno di cinque. sto nell'aria è piena è piena no non ci credo sono riuscito a entrare in tempo c'è dentro sia black che ronald ma vaffanculo e dario c'è quando questo video e crashi ti giuro a me godo per dire che cosa ma dici dell'addente stai scherzando no no bomba devi mettere il video bomba però e tu richieda tra noi due vabbè turi non mi interessa se dentro uno di noi due almeno basta che la gloria sia ma un bel entro io entro io perché c'è il più grosso entro io entro io beh sei sicuro ragazzi dai c'è la magra spinta all'inizio turi ti voglio bere io spavo la x da prima o ultima turi scusa ti voglio bere no non mi dire sono cancro il bomber sta guardando sono cancro ragazzi non manca manca solo lui a far entrare ma oh ma raga ma dove cazzo siete entrati voi ragazzi ma da dove siete passati voi ragazzi oh ma raga l'avevo chiuso noi ha perso cioè io come vuoi aver guardato e poi uno dice che non ha culo e perchè vince vai dimmi te basta questa qua la registra non mi interessa c'è guarda che tutti ce l'avevano aperto mica soltanto io io ce l'avevo chiuso poi uno lo dirò che se mi è non deve dire niente vabbè black di quanto volte se lo fa mettere se l'avevo aperto ma 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 che tu ce l'avevi chiuso io ce l'avevo aperto ma vedi soltanto tu che sai ma perchè fai sti doppi sensi guarda ma il sec dove ero non ho capito ningula mamma ssssss ah è troll non è ma sono accorto troppo tardi ma raga voi mi state dicete che c'è che era giù ma ti pensavo di salire sul domo sì che bm che siamo ma ma亮 ma la bm?! quindi siamo di fili di puttana sa morto via ah 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 aah